Ciao a tutti ragazzi, bentrovati in questo nuovo pack opening, oggi come vedete anche con la facecam, volevo metterla anche un'altra volta ma mi sono dimenticato di registrarla appunto quando facevo il video, quindi oggi appunto mi sono ricordato, quindi facecam andiamo a spacchettare altri pacchetti, usciamo da qui, faremo altri 10 pacchetti, ah no c'è anche un pacchetto, ah ho ancora un pacchetto di quelli da un solo giocatore per la partita, l'ultima partita che ho giocato, quindi apriamo anche quello, ma non lo contiamo nei 10, ovviamente, vediamo un po' chi troviamo qua, cieca, vabbè, curatori inutili, adesso cominciamo il pack opening vero e proprio, via col primo pacchetto, Beresuski, Kaebi, Bedoya, che schifo, bella la maglia di Rwanda, c'è un pacchetto di doppioni praticamente, vabbè, secondo pacchetto, saltiamo l'animazione stavolta premendo X subito, Samaras, Gignac, Vakros, Vertonghen, buono Vertonghen, ah è terzino sinistro qui Vertonghen, l'hanno spostato, meno male perché mi mancava un terzino forte, sto ancora con Comarov, buono, e poi, vabbè, basta, terzo pacchetto, premiamo X, Giaccherini, pure qua Giaccherini, Muriel, sì ma tanto non ne faccio, ormai sto a fare una squadra europea e poi il doppione coni ovviamente, vabbè, io continuo a leggere di gente che trova Ronaldo, Messi, Suarez, Neymar, boh, vediamo se in questo quarto, in questo quarto pacchetto esce qualcuno, Zabaleta, Zabaleta, Zulu, Miller, madonna, tutte pippe, Zabaleta sarebbe anche buonino, ma neanche tanto, poi tanto vi faccio una squadra europea, quindi, vabbè, l'argentina, DeFour, doppio, no, vabbè, il quinto, il quinto pacchetto se non sbaglio, saltiamo, Vidal, che non me ne faccio nulla, sempre per lo stesso motivo, però, vabbè, Zaccheroni, vabbè, Vidal, non male, dai, Sesto pacchetto, dai, qui la lasciamo l'animazione, magari porta bene, vediamo, Nasri, esterno-sinistro, oh, finalmente un esterno-sinistro, non è che sia fortissimo Nasri, però non ne avevo uno, ma questo è Nagamura, no, Dameron, vabbè, e poi doppioni, doppioni a gogo, due cos'è, il settimo? Io perdo il conto, questo è il problema, forse ne apriremo qualcuno di più o qualcuno di meno di dievi, boh, saltiamo, dai, Miss Hudson, che schifo, mamma mia, questo è il più brutto proprio, orribile, siamo all'ottavo? Uome, ma perché? Ma questo è quel uome lì, è Pier Uome, quello che giocava con la Roma tantissimi anni fa, eh sì, 79 è lui, pensate, eh, Wolcott, però vuole Wolcott, ma no, è il 96 Wolcott, togliamo un po', vedete, vuole 3, abilità 3, vabbè, buono, va, continua a trovare buoni giocatori, ma mai un top leg, mai, boh, io ho perso completamente il conto, dovrebbe essere il penultimo, saltiamo, Manger, Guerron, Damiao, Florenzi, 75 di over, perché lo fanno così il pippa a Florenzi? ultimo pacchetto per questo pack opening, speriamo che vada meglio di quelli aperti finora, vediamo, Stegerenburg, 89, mamma mia che schifo, che capelli ha questo, che schifo, dai, niente, vabbè, no, basta, ne apriamo un altro, perché mi fa schifo, mi ha fatto proprio schifo, questo pack opening, dobbiamo dare un senso a questo pack opening, quindi ne apriamo un altro al volo, saltando animazione, saltando tutto, vai, crevi l'avarizio, non voglio aiuterlo così, dai, pirlo, di quelli forti, il più scarso è uscito, lo sia 55, tebbene, che palle, vabbè, diciamo che può andare, vabbè ragazzi, anche questo pack opening, quindi, si chiude qua, io vi ringrazio, per aver seguito il video, arriveranno altri, altri pack opening, ne arriveranno anche alcuni, sul foot normale, il foot base, insomma, visto che ogni pacchetto che apro qui, mi dà diritto ad un altro pacchetto, nell'altro foot, arriverà anche qualche ricco pack opening, di là, e ne arriveranno anche altri, qui sul foot dei mondiali, quindi, io vi ringrazio, vi do appuntamento alla prossima, fatemi sapere sempre voi, cosa state trovando, perché, a quanto pare, voi trovate Ronaldo, Messi, e tutti i fenomeni, doonti ampera di pippe su pippe, vabbè, ciao ciao!